Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi parliamo di resilienza e leadership al femminile. In altre parole, come può fare una donna a trovare e soprattutto a coltivare con continuità il coraggio per costruirsi una carriera di successo senza farsi abbattere dalle difficoltà presunte o reali perché molte volte sono nella nostra testa e basta, e come può riuscirci senza sminuire il proprio valore, senza scendere a compromessi. Quindi parleremo di questo tema con Elena David. Ciao Elena. Ciao. Grazie per essere qui con noi oggi. È un piacere mio. Abbiamo parlato poco fa con Elena di come riuscire ad incastrare i nostri appuntamenti oggi sia stata una vera impresa, quindi non voglio indugiare troppo e corro subito al cuore. Prima però Elena merita un'introduzione che in qualche modo non rende giustizia in realtà alla sua esperienza, però cercherà di riassumerla in poche righe. Tu Elena hai un'esperienza davvero immensa nel campo manageriale. Sei stata amministratore delegato, amministratrice delegata? Beh, esiste l'espressione femminile. Ma va bene anche amministratore. Ok. Di importanti realtà turistiche, da Star Hotel a Valtour, passando per un hotel and resorts. Oggi ricopri l'incarico di consigliere indipendente nella società quotata della Doria e Fideuram, che non so mai come dirlo, intesa San Paolo Banking, in attesa, come hai detto tu, di nuovi sviluppi, che quelli non mancano mai. Allora, una delle frasi Elena che mi ha colpito di più leggendoti, ascoltandoti, è questa, che non è appunto una frase tua di Winston Churchill, ma che ti rappresenta pieno in questa fase della tua esperienza. E dice, il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di andare avanti che conta. Allora, aiutaci a capire quali sono le caratteristiche che una donna deve coltivare per trovare questo coraggio. Sì, grazie Cecilia di questa opportunità. Diciamo che ho pensato di rispondere a questa domanda focalizzandomi su dieci elementi chiave, tutti con l'accento sulla A, e quello da cui mi piace partire è femminilità. Femminilità, che è una parola, spesso potrebbe essere quasi un tabù, se parliamo di managerialità, leadership e resilienza, ma in realtà la femminilità mi vuole portare alla parola della bellezza. Quindi questo significa, intanto, non perdere come donna le proprie caratteristiche, la propria percezione di sé, appunto, come essere femminile, con la cura e l'attenzione al dettaglio, che sono anche delle nostre tipiche, diciamo, capacità, e con proprio la ricerca della bellezza, che è un elemento, qualcuno ha detto, la bellezza salverà il mondo, io sono convinta di questo. Ho scelto di far memorizzare a chi ci ascolta questi singoli tips, diciamo, attraverso un'immagine. In questo caso ti voglio raccontare questo attraverso Andy Warhol e il ritratto gold di Marilyn. Credo che lei sia per tutti l'icona della bellezza, in questo, tra l'altro, quadro è una bellezza che è stata fissata, che è stata bloccata, ma contestualmente c'è anche una storia drammatica che conosciamo e che vuole anche richiamare come spesso vivere questa femminilità non sia nemmeno così semplice, ma non c'è nessun motivo per cui vi si debba rinunciare, non abbiamo nessuna ragione per farlo. E non va dimenticato di poter perseguire la leadership assumendo i tratti maschili del potere o del comando. L'essere donna per tanto tempo è stata anche una chiave di successo e dopodiché, quando ha costituito un motivo di difficoltà, ovviamente l'ho affrontato, insomma, senza però rinuncia. C'è stata una situazione che ci puoi raccontare in cui, appunto, essere donna è diventata quasi un motivo di debolezza agli occhi di chi ti circondava? No, questo purtroppo succede, succede e ci sono ambienti come quelli della finanza dove sicuramente è molto più difficile. È il frutto di un pregiudizio storico, di una condizione culturale. Non ci si arrende di fronte a quella, bisogna necessariamente, come dire, combatterla, necessariamente opporvisi, non cercando di cambiare, rimanendo se stessi e affermandosi tramite altri elementi che poi, insomma, mi piace raccontarti. Ma questa tua domanda mi porta subito a linkare alla parola successiva, che è la caparbietà. Infatti, nelle doti, negli elementi da coltivare, questa mantenere grinta, determinazione, essere costante, non arrendersi, non farsi intimorire, credere nelle proprie te, è stato determinante. Qualche volta anche difficile, evidentemente, da sostenere. Questa caparbietà ci porta a una seconda parola, che è appunto costanza, che è, diciamo, dopo bellezza, sicuramente un altro termine che vorrei fissare. E credo qui di aver trovato l'immagine veramente rappresentativa in due sensi. Infatti, voglio fare riferimento a Giuditta Eoloferne di Artemisia Gentileschi. Qui i tratti della determinazione e della caparbietà sono duplici. Da un lato, sicuramente, nell'immagine di questa Giuditta, che con sguardo determinato e con forza compie questo gesto, anche violento, in nome della libertà del suo popolo. Quindi questa grande difesa delle proprie idee. Ma in realtà questa costanza e questa proprio caparbietà sono addirittura nell'autrice. Tutti conosciamo la storia di Artemisia Gentileschi, le sue difficoltà, addirittura, insomma, l'episodio dello stupro, la sua difesa di fronte al giudizio della Chiesa. Ma lei non si è mai arresa ed ha continuato ad essere la grande artista che conosciamo. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che ho scoperto che l'anno prossimo la National Gallery gli dedicherà una incredibile, diciamo, mostra. Tant'è che hanno acquistato in previsione proprio un quadro che adesso è nella hall della National Gallery. E quindi io sono in fremente attesa perché effettivamente ho una grande adorazione per questa grande artista. Tra l'altro mi viene proprio in mente che questo collegare le parole alle immagini, soprattutto quando l'immagine si riferisce a qualcuno che davvero ha vissuto delle situazioni molto più drammatiche delle nostre, in un contesto storico molto più pesante verso la donna rispetto a quello che viviamo oggi, forse, forse, riusciamo anche a dirci, ma in fin dei conti posso farcela anch'io, se ce l'ha fatta lei. Assolutamente, diciamo che ci sono una serie di icone, di modelli che a modo loro sono sempre fonte di ispirazione, anche se poi ci appaiono lontani dalla quotidianità e dalle beghe o dalle difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Passo io alla prossima, a cui sono molto legata. Si tratta dell'onestà. Onestà in questo caso è mantenere un profilo inattaccabile, non scendere a compromessi e quindi far sì che la propria sviluppo professionale non possa consentire a qualcuno di metterti in una posizione di ricatto. E questo lo fai solo se, specialmente quando ti trovi ad essere leader e quindi a gestire persone, usi la meritocrazia come unico valore, quindi non l'amicizia, cioè nel senso le tue valutazioni devono essere sempre basate sul merito, merito della persona o merito oggettivo delle questioni. La parola a cui mi collego è la trasparenza e in questo caso ho usato come immagine, cioè mi è venuta alla mente all'immagine un'opera che è I Bari di Caravaggio, che è completamente, se vogliamo, in realtà rappresenta proprio il momento della disonestà. Però dentro questo quadro l'invito è ad osservare questo atteggiamento quasi sereno, o se vogliamo, della persona, del giovane che sarà tra virgolette truffato e derubato. Cioè ha uno sguardo concentrato e sereno che a me non piace leggere come quello di chi da fessacchiotto diciamo si fa fregare, ma in realtà come che è lo sguardo sereno e concentrato di chi sa di essere onesto, giusto. E quindi sì, può anche subire qualche volta, sicuramente è accaduto, è accaduto anche a me, di subire qualche, tra virgolette, danno, ma quello che è importante è che io abbia potuto mantenere nella mia storia questo profilo appunto di assoluta trasparenza, di assoluta onestà, che mi ha anche consentito di essere sempre libera, ecco, perché è un concetto molto importante da non trascurare. Mi piace molto il fatto che tu abbia sottolineato l'espressione di chi sta per essere ingannato, perché quello che stavo per chiederti è se io non sono ancora magari in una posizione di leadership, sappiamo che la meritocrazia non è proprio una parola chiave italiana, magari lo sta piano piano diventando un pochino di più, ma non è parte della nostra storia. E quando mi trovo dall'altra parte, quando la sensazione è quella di star subendo da un pochino troppo tempo, che cosa posso fare? Come posso reagire per mantenermi onesta e trasparente? Perché poi la tendenza magari è quella di cercare altre strade. Sì, altre strade. No, diciamo che, così come ha detto Aristotele che l'eccellenza è un'abitudine, in realtà anche questa, chiamiamola onestà, cioè questo tratto di fermezza, altrettanto lo deve essere. Cioè, in realtà sono comportamenti che devono essere parte di te, parte della persona, e che a mio parere nel auspicabilmente medio termine devono produrre un risultato, perché il tuo merito deve uscire non soltanto dalla tua competenza, che ora poi ci arriveremo, ma deve uscire anche proprio dall'essere una persona che ha un tratto di assoluto rigore nei confronti della valutazione delle situazioni. E quindi il sinallagma è che questo deve essere raccolto e recepito. Se poi non succede, come dire, è ora di cambiare lavoro, cioè è ora di dirigersi da altre parti, perché evidentemente se tu ci hai lottato, ci hai messo tutto l'impegno e poi non nasce. Però io voglio pensare positivo a questo sguardo sereno e concentrato del giovane che comunque potrà subire il danno, potrà subire il momento di... Ma è così che ci si pone di fronte alla vita e di fronte alla sfida anche professionale. Bellissimo, credo che questo riferimento non lo dimenticherò facilmente. Questo gioco di immagini è incredibile. Quindi ti chiedo già di partire con la prossima parola, perché non vedo l'ora. Allora, la prossima è qualcosa che anche qui è un po' tabù, è fragilità. Fragilità che poi porta anche a resilienza, che è esattamente il tuo termine. Fragilità vuol dire non avere paura di essere fragile, lasciare che i dubbi ti colgono, quindi mettere in discussione, avere proprio una ricerca che ti porta a contrastare la fragilità e quindi l'insicurezza con l'approfondimento e quindi generare sicurezza. Quindi è proprio un percorso. Questa sicurezza che nasce dall'essere pronti e preparati, dall'avere approfondito. Quindi proprio fragilità come premessa per la ricerca della sicurezza. Io oggi sono qua preparata, questo mi fa sentire sicura, perché io non ho detto ok, ho 30 anni alle spalle, ho parlato ovunque, vado lì e qualcosa racconto. Io ho voluto preparare questo, studiarlo con te, sono mesi che ne abbiamo parlato e questo mi rende assolutamente sicura di questo. E lo devi fare come stile, come mindset, non è qualcosa che si fa un giorno sì, un giorno no, è qualcosa che deve essere parte di te. E l'immagine qui sarà ancora più bella, secondo me. Giacometti, sicuramente un autore in questo caso moderno, contemporaneo. Ecco, una cosa importante che devo dire, che me l'ha raccomandata la mia sorella, che questa lettura delle opere che io sto dando assolutamente non è iconografia ufficiale, è proprio una percezione, una sensazione, altrimenti qualche nostro ascoltatore dirà questa sta bestemmiando, possibilissimo, ma questo è in realtà soltanto la mia lettura, quindi certamente non si vuole proporre come una lettura ufficiale in alcun modo. Torno alla fragilità. Giacometti ha fatto un'opera che solo nel titolo è già indicativa, L'uomo che cade. Non so se l'hai mai vista, le figure di Giacometti sono queste figure molto esili, in questo passo, quasi uno scheletro, una fragilità che quindi si esprime sia nel corpo che nella mente, ma il passo è quello che conta e che poi ti richiama la mia frase di Churchill, è il coraggio di andare avanti quello che conta, quindi anche quest'uomo così debole, che ti sembra che possa cadere da un momento all'altro, in realtà non sta accadendo, sta facendo il passo per andare avanti e quindi questa è, secondo me, un'immagine di fragilità positiva, di fragilità che non ti abbandona. A proposito di fragilità, mi viene in mente un episodio che ho vissuto tantissimi anni fa, all'inizio di quella che era la mia esperienza nel mondo del web, che poi è diventato un po' la mia casa, il mio ufficio, tra virgolette, e ricordo che entrai nell'ufficio del mio superiore, del mio manager, e gli feci vedere quello che avevo fatto e lui scosse la testa in maniera evidentemente infastidita e mi disse tutto quello che non andava bene e mi sentì così negata, così fragile, così vulnerabile, così insicura, tanto che cominciai a mettere subito in dubbio tutta una serie di scelte che avevo fatto e ricordo di avergli detto qualcosa come forse non sono portata per questa cosa e lui, con il suo bagaglio esperienziale, mi disse no, non è una questione né di intelligenza né di sicurezza, è solo mancanza di esperienza. Io ricordo di aver lasciato l'ufficio sapendo di essere caduta, ma sapendo che avevo già la forza per rialzarmi. L'esperienza in realtà non va confusa semplicemente con l'anzianità e il passare del tempo, è proprio la preparazione, cioè è quello l'approfondimento, è il fatto che tu quando fai un lavoro devi avere dei dubbi, devi porti delle domande, la domanda è sempre il momento per iniziare il cammino e di approfondirlo, non pensare che chi viene dopo di te sia più intelligente, possa quindi comprendere, devi essere esplicativo, devi aver approfondito, questo ti dà la sicurezza di poter affrontare e questo ovviamente poi crea l'esperienza. Però è importante l'approfondimento e la preparazione, è importante non pensare di vivere della rendita di conoscenza che hai. Ogni task va affrontato con la giusta determinazione, il giusto approfondimento, considerando che c'è sempre qualcosa in più che puoi aggiungere, che puoi precisare, che perfeziona il tuo lavoro. Bellissimo, quindi qualcosa da abbracciare sempre e comunque, a prescindere da quanti anni di esperienza abbiamo. Assolutamente, io ti ripeto, tuttora che ho, insomma anche, non sono giovanissima e che ho tanti anni, credo che proprio l'approfondimento, naturalmente è più semplice quando hai un bagaglio temporale alle spalle di cose vissute, però l'approccio deve essere sempre quello di chi deve comunque in qualche modo imparare e approfondire, questo è fondamentale non perderlo. Parlare della mia età mi porta poi facilmente al punto successivo, la maternità. Anche qui potrebbe quasi sembrare una negazione in termini, spesso si dice appunto che per far carriera non devi, come dire, in qualche modo farti interrompere da questo evento. Io la penso assolutamente al contrario, vuoi perché, vabbè, e poi lo racconteremo, per me la maternità è stata una chiave di volta nel successo, ma a prescindere dall'esperienza personale, sono assolutamente convinto che la maternità, che è il prologo ed è prodoma verso la costituzione di una famiglia, famiglia è proprio il luogo ideale dove ritrovarsi e la famiglia è il punto di raccolta, è quella situazione nella quale devi fare i conti anche con le priorità, devi gestirle, devi affrontarle, devi saperle valutare ed è il primo banco di prova probabilmente, prima ancora del lavoro e quindi la maternità appunto collegata alla famiglia, collegata poi a un senso di accoglienza, cioè di ricevere, è un momento fondamentale. Ti dicevo prima che nella mia vita in realtà è stata proprio un episodio legato a uno scatto di carriera, perché il mio datore di lavoro dell'epoca, in occasione della seconda maternità, quella di Virginia, e qui devo spendere due parole per i miei gioielli, Lorenzo che ha 26 anni e che adesso lavora al Rizza Londra, quindi un po' in qualche modo segue un po' la strada, e Virginia invece è un'atleta fantastica, gioca a palla a mano e insomma per ora non sappiamo che cosa farà a 20 anni, ma si sta divertendo con questo sport che poi praticava il padre, non tanto diffuso in Italia, ma l'ha portata a stare due anni in Danimarca, insomma ha fatto bellissime esperienze. Chiudo la parentesi per dire che proprio quando aspettavo Virginia, ero in Star Hotel, ero in un momento molto importante del mio sviluppo professionale e in quel momento questa maternità mi sembrava quasi un'interruzione, però ovviamente Virginia doveva arrivare ed eravamo felici di accoglierla, io ero andata dall'ingegner Fabri dicendo guardi non si preoccupi, comunque io torno subito dopo, e lui è stato così lungimirante, per il resto insomma io lo considero veramente un grande genio imprenditoriale, un uomo sicuramente unico, che per me è stato un maestro, capì che doveva darmi una spinta forte perché questo rientro avvenisse, tenuto conto che insomma bene o male c'era la possibilità anche che io mollassi un attimo, avendo già un bambino di sei anni eccetera, e tant'è che subito dopo la nascita di Virginia lui impostò le cose e io sono rientrata e sono diventata direttore generale, perché nella sua testa capiva che darmi una forte stimolo sarebbe servito a ovviamente fare quello che molte purtroppo sappiamo che fanno, poi non dico neanche purtroppo perché se sono scelte personali vanno sempre rispettate, quindi però diciamo non è tanto che racconto questo nella logica, ma voglio tornare proprio al concetto della maternità perché questo ti consente di avere la famiglia, la famiglia come luogo dell'accoglienza e come banco di prova per la gestione, per la conciliazione e la gestione delle priorità, che sono comunque situazioni che trovi perfettamente anche quando sei in ufficio e nel lavoro e non le puoi lasciare. E qua sulla maternità c'è un'immagine che è unica, non avrei saputo individuare altre, è la Madonna del parto di Fiero della Francesca e credo che la poesia e la sublimazione che deriva dalla semplice visione di quest'opera non abbia bisogno di ulteriori parole. Solo una notazione per quel gesto della mano posato sul ventre che credo scateni ancora in me, è una tenerezza incredibile, è proprio la tenerezza che voglio legare alla maternità. Elena ti chiedo di darci un suggerimento quando ci troviamo in una situazione meno, chiamiamola privilegiata, perché si può dire che è stato un privilegio avere qualcuno sopra di te che invece di spingerti in basso perché potevi in qualche modo diventare un peso per l'azienda, con la maternità ti ha detto no, invece io ti do addirittura la possibilità di tornare alla grande. Ho diverse amiche che si sono trovate recentemente in situazioni poco piacevoli, dove la maternità appunto vissuta come un peso diventa l'occasione per ridurre lo stipendio oppure abbassare il grado di lavoro, di esperienza nonostante il livello di preparazione. Guarda, è una risposta scomoda la mia, però la devo dare nella sua totale franchezza. Sono due cose che contano, premesso che ci sono le leggi, i diritti, quindi onestamente non entro nel merito di chi fa cose che non si devono fare, però fondamentalmente le cose sono che tu devi da un lato dimostrare che saprai gestire e conciliare queste cose perché inevitabilmente l'azienda ti chiede un tipo di dedizione che non significa rinunciare ai tuoi figli perché io li ho cresciuti e insomma non ho fatto niente di più o di meno di quello che hanno fatto altre, mi sono ovviamente organizzata, ho sofferto tantissimo, questo diciamolo, perché quando mancavo, quando non potevo, quindi nulla di facile assolutamente, però è chiaro che ho dato all'azienda la mia, diciamo, ho dato all'azienda la possibilità di sentirsi sicura della mia, diciamo, adesione al processo che l'azienda richiede, perché purtroppo l'azienda lo richiede. Poi, vabbè, erano altri tempi, non c'era internet, cioè non era, anche il lavoro remoto era molto più difficile, insomma, le cose erano. Dall'altro è evidente che quello che tu chiami privilegio, e che io non voglio chiamare così perché, come diceva la Tarcher, non sono fortunata, me lo sono meritato, nasce dal fatto che io ero importante, cioè il mio lavoro era importante, fare a meno di me per l'azienda sarebbe stato un problema. Quindi ti sei resa indispensabile in un certo senso. Diciamo che è fondamentale che tu abbia un ruolo che serve, ripeto, questo però lo astraggo un attimo perché poi oggi ci sono norme, ci sono leggi, la tutela, non si deve essere penalizzate perché si decide di fare figli, però nello stesso tempo ci sono dei meccanismi di cui dobbiamo anche essere consci, prendere atto, funziona così. E quindi tu effettivamente puoi avere una chance, addirittura in più, che nasce dalla maternità se il tuo ruolo è davvero, si è reso un ruolo significativo, importante, se non sei così facilmente sostituibile con un'altra che magari non chiede un permesso, quindi ecco, questo lo considero importante. Credo che sia cruciale questo aspetto, quindi un po' spostare l'ago della bilancia perché mi fa anche pensare a quanto spesso ci troviamo a correre come delle pazze, no? Facendo un sacco di cose, ma se non spostiamo l'ago della bilancia nel contesto in cui siamo appunto diventiamo facilmente sostituibili e quindi lì magari ci vuole un piccolo lavoro di preparazione a monte per cui prendiamo le distanze e cerchiamo di capire come nel nostro lavoro possiamo fare la differenza. E guarda, la parola successiva sembra proprio, nonostante la spontaneità del nostro dialogo cade a proposito, la parola successiva è università, università è solo un termine per raccontare la necessità di essere molto competenti, molto preparate. Dico università, ma in realtà dico appunto competenza, la parola vera su cui soffermarci è competenza, che poi ci richiama a quello che abbiamo detto prima dell'approfondimento. È chiaro che ai tempi in cui ho iniziato io effettivamente ancora laurearsi ti dava una facilità di accesso maggiore al mondo del lavoro, era oggi, certamente dopo oltre 30 anni, le cose sono abbastanza diverse e non è più sufficiente l'università in quanto tale. Ma io sottolineo la competenza, quindi essere ben preparati, farlo attraverso tutti i vari percorsi, sia di studio che di esperienze pre-lavorative, ma è importante perché solo se tu hai appunto un valore vero, alla fine puoi cercare di misurarti. Se sei così uno come tante o una come tante e comunque il tuo valore aggiunto non è immediato, non è percepibile, diventa molto più difficile. Per raccontarti questo tema ho scelto un'opera il cui significato è completamente diverso, ma mi piaceva l'idea del libro. È Madame Ginoux di Van Gogh. In realtà, un po' perché è un po' una immagine secca e lunga, che per qualcuno io sono un po' così, non che si assomigli, però insomma c'è quest'idea un po' così. Ma l'unico riferimento in questo caso è il libro. Van Gogh è un autore che adoro tantissimo e quindi è il primo che mi è venuto in mente per parlare di libri di studio. Ma c'è una parola chiave che si collega a quella successiva immediatamente, cioè Madame Ginoux è una donna che ha un atteggiamento molto dignitoso. E dignità è un altro termine fondamentale. Dignità che cosa significa, che cosa ci racconta? Che devi rimanere integro, devi rimanere coerente, non scendere appunto a compromessi, mantenerti fiera, mantenerti sempre alta. Questo vale anche quando, attenzione io non sto parlando solo di quando fai l'amministratore delegato, questo vale a ogni livello. Questa tua compostezza di essere, questa tua fermezza e questa tua dignità, che significa, ripeto, non scendere a compromessi, significa anche mantenere appunto una fierezza che qualche volta ti può anche costare. E io la trovo fondamentale anche nei lavori più umili. questo non è assolutamente, ripeto, non lo voglio collegare alle posizioni apicali. Sempre Van Gogh, nei suoi mangiatori di patate, ci mostra una scena di assoluta povertà, se vogliamo, quindi di cibi poveri, eccetera, ma soffermiamoci su quella contadina, sulle sue mani nodose, quindi anche su un'idea proprio che ci riconduce a lavori, ripeto, fondamentalmente bassi, o meno, meno importanti, ma con quale dignità effettua questo servizio? e questa immagine è molto forte. La dignità è strettamente connessa con un'altra parola a cui voglio arrivare, che è l'umiltà, se ci pensi, che nel nostro racconto significa questo, significa che intanto si parte dal basso e non si deve avere paura di partire dal basso. Io mi sono laureata con 110 e lode, ero una persona, quindi con il suo bel curriculum scolastico, una persona brillante, sono entrata in una grande azienda, Star Hotel, ti diamo conto che nell'area fiorentina non c'erano, e non ci sono tuttora, grandissime aziende, c'è un numero molto limitato di grandi aziende, e ci sono entrata dalla porta secondaria, sono stata assunta come assistente della direzione finanziaria, ma non ho avuto dubbi, o meglio, in questo caso, anche il dubbio che ho avuto, mio marito mi ha aiutato molto, all'epoca già stavamo insieme, insieme a valutarlo, perché io ho letto che quella era una grande azienda, strutturata, tra l'altro io due giorni dopo la laurea, ero entrata invece in una piccola azienda locale, molto interessante, una nicchia, un'azienda che fa ceramica, nel Sesto Fiorentino, una capitale della ceramica, c'era la famosa Ginori, quindi un'azienda molto piccola, dove avevo già, diciamo così, mi ero già posizionata in un ruolo potenzialmente interessante, perché avrei dovuto, in progress, coordinare gli agenti esteri, quindi insomma fare un'attività anche interessante nel campo delle vendite, però io non ho esitato nel momento in cui mi è stata offerta la possibilità di entrare in Star Hotel, seppur, ripeto, con un ruolo che era forse anche sminuente apparentemente per una che si era laureata in nomi e commercio, un 110 e l'olio, e questo tratto di umiltà ho sempre mantenuto anche nel lavoro successivo, perché, questo l'ho spiegato, ricordo di averlo spiegato un giorno, ho avuto il piacere di partecipare a una giornata di formazione di KPMG verso i giovani, insomma, che entravano e ho raccontato la storia degli archivi, no? In Star Hotel, appunto, a un certo punto c'era questo famoso armadio dove era stata raccolta tutta la documentazione relativa alle operazioni di acquisizione dei vari hotel e l'ingegner Fabri, che era una persona molto strutturata, proprio ingegnere, così a un certo punto io capì che aveva interesse a che questo archivio fosse, diciamo, organizzato in un certo modo. Ecco, è un lavoro che ho affrontato senza nessuna disturbo, perché in realtà poi, e l'ho capito forse anche dopo, quello mi ha consentito, cioè mettere in ordine questi documenti, mi ha consentito di conoscere a fondo tante cose, di avere una serie di conoscenze e come sappiamo poi quando arrivi al tavolo di lavoro la conoscenza, cioè chi è che domina una riunione, chi sa le cose, no? alla fine, non è tanto solo chi ha il potere, ma la conoscenza è potere e quindi quella situazione mi aveva dato l'opportunità di conoscere, l'opportunità di sapere e quindi io consiglio sempre una grande umiltà nell'approccio e non mettersi mai su qualche piedistallo dicendo, no, quella non è un lavoro per me, perché anche dai lavori a volte più apparentemente elementari può nascere e inoltre l'umiltà la raccomando come modo di approcciare il tema, cioè non pensare mai di partire top down, ma pensare sempre di andare dal basso verso l'alto, perché è un modo di ripeto, di sapere e quando sai, quando conosci diventi diventi forte. Per me l'umiltà ha una sola immagine, una sola faccia, quella del padre nel ritorno del figlio prodigo di Rembrandt, ho avuto la fortuna di essere all'ermitage prima di Natale e quindi di riassaporarmelo da vicino. questo padre ricco, importante, ma nei cui occhi c'è questa grande appunto umiltà che è una una grandezza. Senza l'umiltà non si raggiunge la grandezza. Questo io ne sono fortemente convinta, diciamo. C'è una parola a cui hai accennato prima che credo sia quella successiva, che è stato il verbo osare. Sì, che si collega a novità, giusto? Osare osare significa due cose. Da un lato non porsi i limiti, quindi questo è importante. Non avere mai il timore di non poter andare oltre. Ok, io sono nel mio ruolo questo, ma non posso occuparmi di quello, non posso parlare, perché anche se a volte le circostanze operative metti sempre il naso in realtà, guarda avanti. Io ogni volta che per esempio quando lavoravo con, parlo sempre dell'ingegner Fabri perché in realtà è quella la fase in cui mi sono costruita professionalmente, quando anche lui semplicemente mi dava così degli appunti suoi da rielaborare, io andavo sempre a cercare ad approfondire ognuno dei temi a cui si faceva riferimento, non mi fermavo al compito che mi veniva dato, facevo sempre un passo avanti, ovviamente rispettando tutte le regole, però questo andare sempre un passo oltre mi ha consentito piano piano di conquistare il terreno e di essere, poi di diventare un punto di riferimento per tanti e questa è la prima accezione di osare, quindi nel tuo lavoro non limitarti a eseguire il compito che ti ha richiesto ma farne sempre un pezzettino oltre e fai capire che sei stata curiosa, che hai cercato, che sei andata oltre, ma osare vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire anche non porsi limiti dal punto di vista io non ho iniziato a lavorare pensando che sarei diventato un amministratore delegato però non mi sono neanche mai fosta il limite ho sempre pensato che potevo arrivare dove volevo dove volevo dove si creavano delle possibilità così come oggi non mi sono mai fermata e limitata ti racconto questo episodio perché tutto sommato è carino a un certo punto dovevo partecipavo all'operazione per cui si acquisiva un albergo a Napoli che apparteneva a Gianluigi a Ponte che è un nome forse non notissimo ma in realtà è il proprietario del gruppo MSC che è il gruppo navale più importante sia per quanto riguarda la crocieristica ma anche per quanto riguarda il cargo a Ponte è una persona di Sorrento che da tantissimi anni vive all'estero prima a Bruxelles e poi in Svizzera per dare l'idea del personaggio è uno delle dieci persone che partecipa al pranzo di Capodanno con il ministro cioè con il ministro delle finanze svizzero insomma stiamo parlando quindi di un personaggio questo albergo era una sorta di giocattolo durante sta lunga trattativa cerco di accelerare a un certo punto non si per il conto suo era gestita da una persona locale di Napoli da un professionista non si riusciva a chiudere perché c'era una divergenza al che io a un certo punto ho detto vabbè dico senta ma non possiamo parlare direttamente con questo signore e tutti mi guardarono come a dire ma questa dove vuole andare chi è stiamo parlando di un personaggio ripeto insomma come se parlassimo di Ford nelle automobili quindi un personaggio e io ho detto vabbè se non non riusciamo a spiegargli che dobbiamo avvicinarci eccetera perché non ci posso parlare e dopo questa mia richiesta tutti rimasero così morale è la favola io approdai a Ginevra in questo palazzo che sta sulle colline dove c'è la sede di MSC e io ho passato una giornata con Gianluigi a ponte che ripeto è stata poi potrei raccontare su quella giornata cose incredibili però voglio dire io non mi sono posta il limite di poter interloquire con una persona del genere ho pensato comunque infatti è stata tra l'altro una persona amabilissima con la quale abbiamo anche peraltro poi chiuso tranquillamente l'operazione per associare a questo osare non potevo che citare Banksy perché l'attualità lo porta diciamo che è in questo momento l'immagine di chi effettivamente osa e ho scelto la bambina col palloncino un po' perché mi fa anche pensare a questo mio senso di libertà che comunque mi contraddistingue qua non c'è tanto da raccontare Banksy ognuno lo legge come vuole però in termini di osare in novità devo dire anche se è un grande marchettaro insomma gli va dato atto e beh direi che siamo arrivati alla fine e secondo me è perfetto il finale perché l'ultima parola è comunità che semplicemente perché ci serviva l'accento sulla A ma si direbbe più facilmente networking per così dire cioè creare il legame creare questa grande sinergia quando sei un leader devi assolutamente essere colui che lega colui che tiene unito il gruppo che sa valorizzare le capacità di ognuno questo è molto importante io credo che non esistano persone assolutamente brave in tutto poi vabbè ci sono i maghi però normalmente abbiamo certamente delle persone ognuna delle quali ha delle proprie capacità quindi saperle cogliere e saperle valorizzare crea il network tesse la trama e questo è molto importante quindi da soli non si vince niente anzi come ha detto qualcuno che per vincere la guerra ci vogliono generali bravi ma anche fortunati comunque devi avere i generali quello che conta e vabbè ho voluto usare un'immagine di Tim senza che ciò diventi blasfemo che è il primo Tim quello di Gesù con i suoi apostoli e quindi dato che stiamo a Milano niente di più del del cenacolo vinciano quindi assolutamente non siamo in un'iconografia classica per cui vogliamo solo giocare in questo caso ma vabbè l'opera non aspetta a me parlarne sarei presuntuosa ma mi faceva solo gioco diciamo parlare di un team che è una grande forza per raggiungere dei risultati per essere un leader sei leader di un team ma è il team che ti riconosce come leader quindi è inequivocabile questo legame uno non esiste senza l'altro in un certo senso mi viene quasi da aggiungere che anche quando sono parte di un contesto dove la leadership non è ancora una skill che mi viene richiesta il riconoscere il team intorno a me è importantissimo assolutamente assolutamente e poi il team ripeto che ti dà che ti colloca in quella posizione se tu hai saputo mostrare le tue le tue le tue le tue Elena io andrei avanti fino a questa sera ve lo giuro è stata una chiacchierata incredibile ragazzi vi ricordo che qui sotto trovate il minutaggio preciso dove abbiamo approfondito ogni singolo concetto vi invito a condividere sotto i commenti se state guardando il video sotto al video se state guardando o ascoltando il podcast dal blog sotto l'audio o il video del blog la parola che più vi rappresenta in questo momento o come parola che state abbracciando in questo periodo della vostra crescita professionale o come parola su cui sapete dovete lavorare in questa fase della vostra crescita Elena ti ringrazio ancora tantissimo è stato bellissimo ti faccio solo un'ultimissima domanda che faccio sempre quale donna o quali donne credi dovremmo intervistare dopo di te ma guarda io ho due amiche che adoro e che secondo me possono raccontare tanto una è Cinzia Sasso è una giornalista famosa che per tanti anni ha tenuto una rubrica su affari e finanza di Repubblica dove in tempi non sospetti parlava delle donne che avevano ruoli di successo e credo che veramente lei sia molto interessante e un'altra è un piccolo vulcano in realtà non piccolo perché più alta di me si chiama Sandra Mori è la presidente di Valore D oltre che General Council di Coca-Cola ed è una toscanaccia che sicuramente secondo me vi sarà divertire e stupire non so se si è capito ma se non sono toste con la T maiuscola non le vogliamo grazie Elena ancora per essere stati con noi un abbraccio a tutti ciao ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl ciao questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl grazie a tutti